Anche a Sanz a breve sarà possibile essere connessi con il mondo in velocità. Partiranno a breve i lavori per la realizzazione della rete di fibra ottica che assicurerà una connessione ad internet più veloce ed efficiente. A breve sarà quindi risolto uno dei problemi che in questa nuova era, dove la connessione ad internet è fondamentale per essere collegati con il mondo, soprattutto nell'ambito delle attività economiche e commerciali, si stava rivelando un vero handicap per la comunità sanzese. A breve tutto ciò sarà solo un vago ricordo con il territorio che potrà viaggiare a passo con i tempi. Un grande risultato per l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Esposito che tra i vari obiettivi si era posto proprio quello di superare le difficoltà di connessione e poter garantire ai cittadini un servizio di connessione internet ultraveloce. Si realizza, ha dichiarato il sindaco Vittorio Esposito, un altro pezzo importante del nostro programma. Una risposta concreta alle problematiche della comunità, delle imprese e dei cittadini che utilizzano la rete. Questo, continua, è il nostro modo di lavorare. Al termine dei lavori di cablaggio, la nostra comunità potrà servirsi di una linea ultraveloce di connessione alla rete con evidenti vantaggi per tutti. Abbiamo accelerato per i lavori, conclude, in modo che lo scavo per la rete fosse realizzato prima che si mettesse in atto un altro grande progetto, ossia quello del rifacimento di tutto il manto stradale nelle vie del paese. Un modo questo per rendere efficiente ed efficace la spesa pubblica. I lavori prenderanno il via lunedì prossimo con l'apertura del cantiere di via San Vito per estendersi poi a tutto l'abitato che sarà interessato da lavori di scavo che verranno realizzati in maniera poco invasiva, limitando così i disagi alla mobilità con il successivo rifacimento del manto stradale. L'intervento interesserà anche il municipio e le strutture pubbliche che saranno collegate con rete in fibra ottica in modo tale da garantire collegamenti a 100 MB al secondo con connettività a banda ultralarga. L'impresa giudicataria dei lavori è la Open Fiber. Il progetto generale, promosso e finanziato dalla Regione Campania con fondi FSR e FEASR dovrà concludersi entro il 2020.